Emom è la parola di oggi, mercoledì 6 marzo 2019, benvenuti su Ciper TV, anzi bentornati su Ciper TV. Abbiamo detto Emom, 16 minuti, quindi 4 round, minuto primo 3 bar muscle up più 4 chest bar più 5 pull up, al minuto 2 15 box jump, al minuto 3 7 power snatches e 7 overhead squats e al minuto 4 15 oppure 12 calories raw. Pesi e scalature sulla grafica, è tutto per oggi, a domani con un altro WOD, anzi con un altro Team WOD perché sarà giovedì su Ciper TV.